Ok, allora, mi hanno chiesto diversi di aiutarli a capire come usare Genie, che è questo sistema che consente di passare da un prompt, il modello testuale, a un modello 3D. Ora, non è per niente semplice, anche se ricorda un pochino il metodo che usa il Mejourney, che appunto non è fortemente intuitivo, però insomma segue quello. Allora, se voi andate a cercare Genie, che è il nome di questo programma, Genie AI 3D, la prima ricerca, il primo risultato della ricerca è proprio quello giusto, altrimenti vi porto chissà dove. Quindi io ho fatto un po' di ricerche, Genie poi gli ha aggiunto AI e poi gli ha aggiunto AI 3D. Ci sono su YouTube già dei video che permettono di... già vi danno un po' di dritte, però sono in inglese. Quindi noi adesso vediamo un po' come fare per accedere a Genie. Quindi clicchiamo sul link di Luma AI, LumaLabs.ai.genie, e vediamo che ci porta al sito di LumaLabs, e in particolare di Genie. Questo perché LumaLabs in realtà ha fatto diversi prodotti e Genie è solo uno di questi. Allora, questo prodotto Genie, come vedete, fa delle nuvole di punti e le organizza in un modo interessante, come volete, però fondamentalmente fa tutto su Discord. Quindi bisogna praticamente andare, cliccare su Discord, e sostanzialmente, o avete l'applicazione Discord, in pratica si va su Discord direttamente, oppure anche sul web, perché sapete che Discord funziona anche sul web, vi fa entrare in Luma.ai, che è questo canale su Discord, quindi ovviamente va da sé che entrando in Discord dovete avere un account Discord, quindi se non ce l'avete dovete imparare come si fa, non è oggetto di questo video insegnarvi a creare un utente Discord, però una volta avuto l'utente Discord, praticamente premendo su questo Discord, questo pulsantone qua, vi invita nel server di Luma.ai. Ora, nel server di Luma.ai, la prima cosa che dovete fare è probabilmente accettare le regole del server, adesso a me non me lo chiede più, si può invitare anche altre persone, qui ci sono una serie di informazioni, fra cui, come tutti i server Discord, è possibile vedere, io guardo soprattutto gli announcement, per vedere praticamente che cosa succede, che cosa è possibile fare, ad esempio oggi è il 6 dicembre, e vedete che è successo qualcosa, però comunque la cosa importante sono questi canali geni 1, 2, 3, 4, 5. Allora, i canali geni dall'1 al 5 sono quelli dove si fa la creazione effettiva, quindi andiamo su un canale intermedio, probabilmente dove non c'è tanta gente, e vediamo che su questo canale qualcuno l'ha già fatto, come succede ai miei giorni, diciamo delle creazioni, con dei prompt, quindi possiamo già avere degli esempi di cose già fatte, quindi per esempio questo sta facendo delle lattine, ma noi vogliamo ad esempio fare qualcosa di diverso, quindi cosa faccio? Una volta entrato nel canale, andiamo a parlare, e vedete che ci presenta geni prompt, quindi geni, esattamente come funziona su mi giorni, possiamo dirgli di fare qualcosa, quindi gli iniziamo ad esempio di fare, per esempio a una rubber duck, rubber duck sarebbe una papera di gomma, e entra rubber duck, solo per vedere se ce la fa, ora facendo rubber duck praticamente cosa succede? Che parte praticamente un task, per sapere che punto è, allora se sono l'unico che lavorare qua, su questo canale, posso aspettare su questo canale, ma se c'è tanta altra gente che ci lavora, probabilmente dobbiamo poi cercare, qua, cioè menzioni un utente, e noi diciamo menzioniamo praticamente Salazar, che sono io, che facendo Salazar, vedete che vi fa vedere tutte le cose che sono fatte per un utente, diciamo, su Salazar, quindi dovrebbe comparire anche, diciamo, la paperella, non me la fa vedere in questo momento, Salazar, forse, mettiamo Salazar, solo Salazar, ok, vedete, se gli metto appunto questo qui, vedete che viene con la paperella, allora, il concetto è che vi compaiono quattro paperelle, quattro paperelle perché comunque va fatto, abbastanza giusto, quindi se io qui, invece nella paperella, volessi fare un genie, rubber, rubber, un gatto, del per rubber cat, quindi praticamente for the tube per la vasca del bagno, quindi vediamo un po' se me la date, qui sono tutte prove in diretta che vi sto facendo vedere, ed è la prima generazione, ve la fa abbastanza semplicemente, quindi se qui, quello, vedete che si sono comparse altre cose, però qui ha fatto un rubber cat, quindi un rubber cat, che potrebbe piacersi oppure meno, però diciamo lui ha cercato di farla, più o meno quello che ha capito, se noi ci interessa uno di questi, intanto possiamo dare una valutazione, quindi ci piace, non ti piace, oppure possiamo rigenerarlo, oppure possiamo andare in view download, in cui possiamo prendere, dire, ok, fidati del fatto che stiamo uscendo, andiamo sul sito di Genie, e a questo punto possiamo cliccare su uno di questi oggetti, e possiamo ingrandirlo, e vederlo un pochino meglio, ora, la cosa interessante è che, è già usabile, nel senso che noi abbiamo già questo oggetto, però come vedete, per lo più non è rifinito bene, quindi bisogna fare un refile, comunque, se per caso uscisse già bello, possiamo già prenderlo, e scarichiamo con questa cosa, e ci esce il GLB, quindi ci scarica il GLB, 3,6 MB, e già questo sarebbe sufficiente, ma supponiamo che invece noi vogliamo, provare a fare il refine, il refine come si fa? bisogna andare nel nostro, quindi qui, confermiamo, e quindi andiamo ad esempio sul nostro rubber cut, che è questo, quindi vedete che in questo modo, usando la ricerca, riusciamo a capire bene cosa c'è, e diciamo che noi vogliamo, 1, 2, 3, 4, vogliamo avere una rifinitura del 2, quindi facciamo refine 2, e a questo punto parte il procedimento di refine, refine cosa vuol dire? che viene, sostanzialmente qui possiamo fare ancora invio, dovrebbe in teoria partire, avete che è arrivato, però non è ancora partito, quindi tra un po' partirà, quando partirà dovrebbe comparire anche il, attenzione dovete mettere i nuovi, insomma per fare questo tipo di, prima i nuovi, nell'ordine di importanza, a un certo punto, comunque lui praticamente comincerà a generarlo, infatti vedete che è arrivato, status generating, adesso, magari aspetto a chi va dal 5%, perché ci piega una mezz'ora, o 20 minuti, qualcosa del genere, interrompo quindi la registrazione, e la riprenderò quando sarà arrivata, al 100%, però aspettiamo di vedere che sia almeno partito, quindi partito vuol dire che dopo un minuto circa, comincia a dire sono arrivato al 5%, cosa vuol dire refine? vuol dire che lui cerca di prendere quel modello, che gli avete detto, in questo caso avete preso questa poperella, anzi gatterella, e gli ho detto di cercare, di renderla un po' più precisa, che non è detto che funzioni sempre bene, però a volte funziona, quindi adesso sto in cerca un minutino, ok, nel frattempo, se vedete, ci sono tante altre cose, tra l'altro ci sono i refine, sono altre cose che hanno fatto loro, dove è sempre utile guardare, perché ci sono delle cose molto carine, che fanno vedere il prompt che hanno usato, il fatto che sia un refine, questo è il geni refine, e quindi sono già delle cose pronte, che in realtà possiamo scaricare, adesso è arrivato qualcosa, direi di sì, ok, e ci ha mandato questo signore qua, allora noi se guardiamo un po' il, questo era l'originale, che vedete che era, praticamente l'originale, senza refine, andiamo a vedere questo qua, facciamo il view download, e poi proviamo a scaricare soltanto questo qua, e lo chiamiamo praticamente, rubber duck, rubber cut, ecco, vedete che lo dice, e poi andiamo praticamente a fare lo stesso mistero, scaricando il raffinato, il raffinato, sempre andiamo su questo, vedete che già la texture è migliorata notevolmente, e quindi se io vado sul view download, abbiamo praticamente un gatto, a forma di papera praticamente, quindi se noi diciamo di fare il download di questo, ci viene questo, quindi 3,6 quello di prima, e questo qui invece è il 1 e il 2, insomma, sono i due mestieri, ora, a questo punto, sospendo un attimo e ricarico in blender, per vedere la differenza, ok, vedete che questi qui sono due modelli, questo è il modello, prima di essere raffinato, e questo è il modello dopo che è stato raffinato, come vedete c'è un calo numero di vertici abbastanza elevato, 74.000, adesso possiamo fare un shift D sul raffinato, visto che ormai l'abbiamo raffinato, e possiamo vedere se, con la solita tecnica di ridurre i vertici, no? E quindi per ridurre i vertici, la cosa, una delle possibilità, sappiamo che ci sono parecchie, è quello di aggiungere un modificatore, e se non vado errato, cioè sarebbe cremesh, ma, decimate sarebbe quello che vuole fare, vediamo un po', dov'è che è decimate, non mi ricordo mai, perché non è una cosa, sarà deformo questo qui, ok, sono un po' cieco, scusate, quindi andiamo sul decimate che è qua, andiamo su opzione decimate, diciamo di un ratio di 0,2, quindi 0,2 praticamente dovrebbe ridurre il numero di vertici interie, quindi decimate ratio 0,2, e poi eventualmente facciamo il apply, vedete che l'ha fatto, quindi qui vediamo, ok, provo a vedere, perché ho visto che il decimate, in modalità planare, cioè che collapse, mi sembra che abbia, mettendo un angolo al limite di 10, riduce il numero di facce, da 102.000 a 2.349, quindi sembra buono, quindi se noi facciamo ancora l'apply, veramente, e quindi qui dovremmo, scusate, ma c'è qualche difetto probabilmente di blender, ma sostanzialmente vedete che decimate planar, comunque fa un lavoro abbastanza discreto, nel senso che questo oggetto, che adesso, penchiamo su questo, vedete che ha una retinatura molto fitta, e questo oggetto, che invece ha una retinatura, come vedete, abbastanza più vaga, però comunque all'apparenza, questi due oggetti sono abbastanza identici, hanno tutte le caratteristiche, solo che qual è la differenza, che questo qui ha, un, soltanto, 7.800 vertici, mentre invece questo qui, se andiamo a vedere, ce ne ha 30.000 vertici, ok, quindi l'abbiamo ridotto di un terzo circa, volendo si può ridurre ancora di più, nel senso che si può continuare a praticamente fare decimate, magari sempre con il planner, come abbiamo visto, aggiungendo ad esempio 15, si dovrebbe, 15, ok, vedete che abbiamo ridotto ulteriormente le facce, e se mettiamo 20, dovremmo ridurre ancora di più, 984, quindi pochissime facce, facciamo l'apply, quindi abbiamo applicato queste cose, quindi questo qua, vedete che ha pochissimi vertici adesso, ne ha, ne ha un pochino di meno, quanto meno, comunque si può lavorare, e comunque sicuramente, questi oggetti possono essere portati, e anche la qualità delle texture è abbastanza interessante, mentre invece, se non facevamo un refine, e abbiamo visto che la differenza fra non fare un refine, e fare un refine, sono 10 minuti circa di attesa, comunque vuol dire molto, perché abbiamo un qualche cosa di molto più rifinito, quindi questa cosa possiamo a questo punto, esportarla come vogliamo, nei nostri vari mondi virtuali, nel formalismo che riteniamo più opportuno, quindi con l'ala per Second Life, oppure GLB che è naturale per esempio, per esempio Spatial, e questo è tutto, non vi faccio vedere l'import in Spatial, ma è ovvio, allora è tutto, quindi vi ho fatto vedere sostanzialmente il sito Genie, vi ho fatto vedere il Discord relativo, e come estrarre e come salvare in formato GLB, buonasera.